Mi viene spesso da pensare quando sento una determinata canzone ovviamente di un'altra epoca storica mi viene spesso da pensare alle facce che associerei con quella canzone sento un certo gruppo, sento un certo cantante e tac parte l'associazione è chiaro che non a tutti magari può scattare questo riferimento e solo magari può scattare con quelli con cui abbiamo condiviso un pezzo di cammino e credo che se vi conosco un po' per voi vale più o meno la stessa cosa Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti